La rottura di Imperatore Scop, è proprio Martina O.M. che cerca di andare al comando, all'esterno c'è Leone Mark, poi Lustro d'Italia, Martina O.M. che guida su Lustro, Leone Mark che va a chiedere strada, mentre quarto in corda cerca di scendere il Lambertrio davanti di Lucermont che però per il momento lo tiene all'esterno. 200 in 14,9 per Leone Mark che adesso fa di nuovo passare Martina O.M. che così va dopo 400 metri di nuovo in testa ed è batti strada. Martina, Leone Mark, Lustro d'Italia, poi Lambertrio a largo, Lucermont la corda, il numero 9 Lloyd W.F. in schiena a Lambertrio. Dopo i primi 600 con un parziale in 16, fa 46 per i primi 6 di gara, Martina O.M. in testa e adesso Lustro d'Italia che cerca di tornare a largo mentre è squalificato Imperatore Scop che viaggia a centro pista. Martina, Lustro d'Italia, alle prese. All'esterno è un po' in difficoltà Lambertrio, lungo lo steccato e besso bene Leone Mark. Quando i cavalli arrivano al chilometro, un parziale in 15,4 per Martina O.M. che comunque ancora guida abbastanza sicura perché Lustro d'Italia deve essere richiesto visto che Martina lo tiene per il momento agevolmente a largo. La retta opposta in 14,9 per il parziale più veloce con Martina O.M. e Lustro d'Italia sempre alle prese. Adesso dalle retrovie arriva il numero 11, Master Rock, che dà una puntata. Master Rock va subito in terza ruota. Lì sotto c'è Leone Mark che avrebbe qualcosa da spendere. Martina O.M. e Lustro hanno speso il meglio. Con la retta d'arrivo, Master Rock che a largo sta passando. Master Rock che sta passando a 24,46. Va a vincere Master Rock. Mentre per il secondo il numero 6 di Leone Mark che precede Lustro d'Italia. 14,7 anche da arrivare. 33,33. Oggi si vola al San Paolo. E che vittoria per questo Master Rock. 24,46. Lorenzo Zollo. È tutto per la terza del San Paolo. Grazie a tutti.